TERSA EPISTOLA DI GIOVANNI L'anziano ha il diletto gaio che io amo nella verità. Di letto io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa, e sti sano come prospera l'anima tua, perché mi sono grandemente rallegrato quando sono venuti dei fratelli che hanno reso testimonianza della tua verità, del modo nel quale tu cammini in verità. Io non ho maggiore allegrezza di questa, l'udire che i miei figlioli camminano nella verità. Di letto tu operi fedelmente in quel che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinanzi alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per l'amore del nome di Cristo senza prendere alcunché dai pagani. Noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità. Ho scritto qualche cosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che cerca d'avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole, non contento di questo, non solo non riceve gli stessi i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della Chiesa. Di letto, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto i Dio. A Demetrio è resa testimonianza da tutti e dalla verità stessa, e anche noi ne testimoniamo, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avevo molte cose da scriverti, ma non voglio scrivertele con inchiostro e penna, ma spero vederti tosto, e ci parleremo a voce. La pace siateco. Gli amici ti salutano. Saluta, gli amici, ad uno, ad uno. Saluta, gli amici, ad uno. Grazie a tutti.